Le comunarie stanno arrivando. C'è grande attesa per questa sera quando rigorosamente online gli aspiranti candidato sindaco del Movimento 5 Stelle si presenteranno agli elettori. Tra i due nomi ufficializzati, quello di Giacomo Cusumano e Simone Borile. Congelato invece è il nome di Leonardo Forner, poiché, contravvenendo alle regole del Movimento, il giovane attivista era uscito allo scoperto prima del tempo. Sfumata invece definitivamente, pare la candidatura di Fernando Ziglio, che guarda caso domani nella sua Camera di Commercio, ha convocato una conferenza stampa che avrà ad oggetto le proposte per la città di domani. Un competitor di peso, Ziglio, avrebbe potuto rappresentare una pedina pericolosa nella scacchiera, ma pare sia stato proprio lo staff milanese di Beppe Grillo a dire no. Borile e Cusumano saranno entrambi collegati in diretta streaming sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle di Padova dalle 21 alle 22 di questa sera. Si presenteranno ufficialmente e risponderanno alle domande che i cittadini vorranno porgere via web. Insomma, le regole vanno rispettate, i 5 Stelle guardano avanti e voltano le spalle a Ziglio. Intanto Luigi Sposato si autoproclama l'anti Giordani e l'anti Bitonci, il terzo incomodo, e su Facebook sostiene di avere in mano sondaggi che lo danno quasi al 13%.